Tg Vicenza ben trovati questa è una selezione di alcune tra le principali notizie della settimana raccolte per voi dalla redazione la rivoluzione della sicurezza Vicenza dichiara guerra alla criminalità è al degrado quello che sta terminando è un anno intenso energico di idee di progetti ma anche di obiettivi puntati raggiunti lanciato il regolamento di polizia urbana annunciato il bando per nove nuovi agenti di polizia locale pronto a entrare in azione il nuovo cane antidroga rafforzati i controlli nei parchi cittadini ci sono gli investimenti per potenziare la video sorveglianza in campo marzo e per le nuove telecamere intelligenti stiamo lavorando anche sulle cosiddette targa system cioè telecamere posizionate nelle arterie principali della città per individuare appunto eventualmente persone che utilizzano l'auto in maniera impropria o addirittura per commettere dei reati intanto la polizia locale a Vicenza chiude un 2019 in guerra col traffico di droga 250 persone identificate sequestrato più di un chilo di marijuana e quasi un etto tra cocaina eroina e hashish nella metà degli interventi è stato utilizzato il sistema di video sorveglianza controllato dai due agenti del nucleo operativo speciale che presto diventeranno quattro e verranno impiegati anche in indagini e appostamenti ho voluto fortemente questo aumento di due operatori al nucleo operazioni speciali vorremmo altresì avviare anche questo personale al corpo di polizia locale di milano che ha un nucleo importantissimo per il la lotta alla stupefacente oggi parte anche il controllo di vicinato controlli di vicinato un vero e proprio patto per la sicurezza delle forze dell'ordine con i cittadini che diventano sentinelle pronte a segnalare sospetti pericoli reati mamme nonni padri di famiglia un esercito di 60 volontari da oggi operativi tra campo marzo viale milano parco fornaci qui siamo in via alliende dove laura torli e la coordinatrice dovrò controllare i messaggi che mi mandano e quelli che io riterrò più opportuni verranno segnalati tramite un portale che è questo c'è il bivacco ci sono i cani c'è un degrado c'è l'esmosina occupazione a bus nomadi alcolici rumore molesti prostituzione spaccio controllo di vicinato per conto mio è un un invito a non girarsi dall'altra parte qua servirà più che altro per gli ospaccio litigi fra gruppi e diciamo così di di etnia diversa i quali volevano gestire probabilmente la zona bisogna solo avere pazienza perché non si può fare tutto subito in un colpo ma un passo alla volta tassello per tassello vedranno la città che ci sarà un cambiamento radicale un momento di speranza un momento che può andare incontro concretamente non solo con piccoli gesti di carità ma gesti che sono anche strutturali per cui un prestito che può risolvere alcuni problemi a livello familiare o chi è entrato nel nell'usura a due settimane dal natale plaude il vescovo all'accordo firmato oggi che vuole essere un sostegno concreto alle persone in difficoltà economica valorizzare il microcredito e sostenere la lotta all'usura della fondazione trovini attraverso il fondo di solidarietà e questo il duplice fronte che trova l'appoggio di cinque banche di credito cooperativo della provincia di vicenza banca del territorio significa stare in mezzo alla gente e quando si percorre proprio fisicamente il territorio ci si accorge che alcune fasce alcuni soggetti attraversano dei momenti di difficoltà allora se è vero che abbiamo questi valori dobbiamo fermarci e riuscire a far qualcosa ecco dare dei prestiti a condizioni assolutamente particolari e aiutare queste persone a ritrovare la strada del corretto rapporto tra il danaro e la propria vita è il nostro impegno Parco della pace cambia volto la giunta comunale ha definito le aree di modifica previste all'inizio primo passo per concretizzare poi l'accordo con i progettisti dell'opera e le ditte coinvolte abbiamo individuato sicuramente l'area sportiva a nord con il rifacimento delle strutture del rugby un parcheggio nuovo adibito a sostegno appunto delle attività sportive campi da calcetto e campi da bici volley dall'altra parte l'area della protezione civile all'interno dell'hangar con uno spazio aperto verde che possa permettere la funzione appunto di protezione civile e un'area in particolare quella dell'ex aerostazione dove destinare delle attività che possono essere di natura ludiche sulla base di un bando pubblico a cui possono partecipare le associazioni del territorio Nell'hangar 3 si concretizzerà l'idea del polo provinciale di protezione civile un'area che può contare su spazio un ampio specchio d'acqua e la piattaforma per l'elissoccorso Un riassetto complessivo quello messo a punto che non prevede spese aggiuntive per il bilancio comunale poiché i 2 milioni e mezzo di euro che servono in più verranno prelevati da ribasso d'asta spiega il primo cittadino Obiettivo arrivare all'approvazione in giunta dei progetti definitivi prima dell'estate Siamo partiti da tempo con lo studio, allora noi questo è un passo concreto che è propedeutico alla firma di una modifica contrattuale che è quella che poi vincola le parti Abbiamo messo le condizioni per avere una città più sicura Ne è certo il questore Bruno Failla nel lasciare Vicenza dopo un anno di operato la città è più sicura e snocciola le misure, i provvedimenti che sono stati messi in campo per contrastare lo spaccio, l'accattonaggio e tutti quei reati che nei cittadini danno la percezione di insicurezza Abbiamo dato appunto il controllo vicinato, abbiamo rinforzato il controllo del territorio, abbiamo aumentato dei provvedimenti di specifiche competenze del questore con il foglio di rimpato e con il foglio di obbligatorio Abbiamo dato il via ai daspi urbani, abbiamo contrastato con arresti, operazioni di polizia giudiziaria, la squadra immobile Controllo di vicinato partito proprio lunedì 9 dicembre, ultimo tassello di quella che vuole essere una stretta forte, la microcriminalità Se i cittadini diventano parte attiva nel monitorare il territorio sono state molte anche le operazioni con il supporto al reparto prevenzione crimine e unità cinofile nei parchi cittadini, Campo Marzo, Giardini Salvi, Parco Fornaci Campo Marzo che se il tempo non fosse stato tiranno poteva essere, negli obiettivi del questore Failla, il luogo ideale per portare alla festa della polizia Un anno intenso non solo nel contrastare la criminalità ma anche per eventi di iniziative Ci sono stati eventi, manifestazioni pubbliche che necessitavano di una particolare attenzione, gliel'abbiamo data E obiettivamente la soddisfazione è che tutto quanto, anche manifestazioni diverse dalle sportive o quelle di natura politica Siano andate bene, che quindi sia stata una cosa che non ha creato nessun problema per la città e anzi è stata inglobata nell'ambiente cittadino Un lavoro che Failla ci tiene a ricordare è fatto in collaborazione con le autorità cittadini e dal sindaco Francesco Rucco al prefetto Pietro Signoriello Lavoro che lascia il suo successore in arrivo da Terni Antonino Messineo e alla città lascia il suo saluto Io sono stato benissimo, la città mi ha conquistato, l'ambiente mi ha accolto benissimo Vabbè, permettetelo, lascio il cuore a Vicenza Hoverboard, Segway, Monowheel e Monopattini La nuova frontiera del trasporto elettrico entra nella vita di tutti i giorni nel linguaggio quotidiano e a Vicenza inizia il futuro Ce ne sono già tanti in città, di fatto i cittadini lo utilizzano ed è anche uno strumento che viene utilizzato da molti professionisti Soprattutto da chi si muove con il trasporto pubblico locale, soprattutto per chi si muove in treno Chi da altre città viene a Vicenza dà la possibilità in maniera abbastanza veloce di spostarsi e diciamo anche in maniera ecologica Anche in Italia iniziano a diffondersi nuovi mezzi di trasporto e ovviamente come accadde per le prime auto alla fine dell'Ottocento Il loro uso deve essere regolamentato Abbiamo interpretato in maniera espansiva quello che è il decreto ministeriale appunto che va a normare questo tipo di veicoli E quindi diamo appunto la possibilità di utilizzare dei mezzi solo all'interno delle aree pedonali e ben specificato all'interno dell'ordinanza Mentre monopattini e sigway che sono diciamo così quelli che si possono guidare con appunto le mani Quindi attraverso l'orientamento da parte del guidatore Lì andiamo a permettere anche nelle zone 30 e all'interno di piste ciclabili che però abbiano diciamo così un percorso a sé stante Quindi vietato assolutamente sui marciapiedi e su altre situazioni La micromobilità elettrica insomma inizia a fare i conti con le regole E se i monowheel e gli hoverboard possono essere utilizzati solo e soltanto nelle aree pedonali Seguei e monopattini possono funzionare sulle ciclabili e sulle strade con velocità massima a 30 km all'ora Chiaramente poi fa fede il codice della strada e quindi è necessario, obbligatorio rispettare il codice della strada anche per l'utilizzo di questi strumenti BJ, bomba Johnson, una bomba politica che scoppia anche in Veneto BJ, Boris Johnson, vince in Inghilterra con la promessa di portare a termine la Brexit Un'esplosione che muove anche i posti nell'Europarlamento Se i britannici lasciano Bruxelles si liberano poltrone in Europa E un posto va a Sergio Berlato che effetto domino cede il suo scranno in consiglio regionale al subentrante Gio Formaggio I tempi credo siano per febbraio, massimo marzo, essere già in consiglio regionale Veneto So che siamo ormai alla fine, però meglio tardi che mai e soprattutto questo mi dà una grande motivazione per vincere il prossimo anno Attenzione, una grande motivazione perché è un annuncio che Gio Formaggio fa per la prima volta su Rete Veneta Sì, credo sia normale la mia candidatura nel 2020 alle regionali e puntiamo ad arrivare primi Quindi Gio Formaggio si candida ufficialmente alle regionali del Veneto del prossimo anno? Certo, con Fratelli d'Italia e sarà una gran bella battaglia La gang dei Bulletti Ragazzini che girano nel quartiere Ferrovieri a Vicenza seminando danni Atti vandalici bravate da giovani villani Come vi avevamo documentato pochi giorni fa Gli episodi iniziano a diventare troppi per far finta di nulla La sono presa con un venditore ambulante, un africano Gli si sono messi intorno, lo prendevano in giro e poi gli hanno rubato anche degli aggeggi, delle cosine che vendeva, della bisiotteria Quattro, cinque ragazzi che è venuto con passamontagna ha detto rapina Io allora ho mandato la via I Bulletti di Via Vacari sono entrati in azione nel bar a fianco alla chiesa di Sant'Antonio Chiesa dove qualcuno, approfittando dell'oscurità, ha rotto i cancelli di accesso al piazzale dell'oratorio Un danno fine a se stesso senza nessun tentativo di furto Chi sia stato non si sa ma nel quartiere giustamente inizia a montare l'insofferenza Questi gruppi vanno fermati quando ci sono le prime avvisaglie perché poi altrimenti è un crescendo e poi si arriva a fatti eclatanti Bene, e noi di Rete Veneta fedeli alla nostra missione di dar voce alla gente e di portare le istanze dei cittadini alle autorità competenti Abbiamo interessato del problema il sindaco in persona che dopo il nostro servizio promette di fare la sua parte Il comune farà sicuramente la sua parte attraverso la polizia locale, attraverso il controllo del territorio Puoi lavorare naturalmente sull'educazione di questi ragazzi dove le famiglie devono essere presenti e sostenere appunto il recupero delle persone Per sistemare le cose il sindaco Francesco Rucco assicura un intervento concreto Sicuramente un potenziamento dei controlli del territorio e della polizia locale che faremo nei prossimi giorni attenzionando la zona dei ferrovieri Si è svegliata così Vicenza, tetti imbiancati e una fitta nevicata a ricoprire attutendoli in rumori della vita quotidiana Neve che era prevista e che ha fatto scattare il piano neve fin dalla sera precedente con spargi sali in azione lungo le arterie principali della città ed anche nelle prime ore della mattinata Per fortuna tutte le misure che abbiamo messo in atto tra ieri sera e questa mattina molto presto le 4 di salatura delle strade soprattutto nei punti critici ha funzionato stando buoni effetti Mancano alcuni passaggi in centro storico logicamente ma abbiamo preferito intervenire prima nei luoghi più sensibili cioè scuole, uffici dove il passaggio di pedoni era superiore Neve caduta copiosa che ha regalato a Piazza dei Signori Piazza Biade, Corso Pallado un'atmosfera ancora più natalizia alla città poche effettivamente le persone a piedi in giro per il centro storico complice il freddo e marciapiedi resi comunque scivolosi dall'effetto neve sale imbiancato Campo Marzo che per un giorno ha smesso i panni del luogo simbolo dello spaccio in città per trasformarsi in una distesa di neve Piano Neve che ha visto operativi 9 mezzi spargi sale di IMA-MCPS mentre sono stati 13 terzisti dotati di mezzi spazzaneve che sono stati preallertati in caso di nuova nevicata con accumuli superiori ai 5 centimetri 15 invece gli operatori di IMA-Ambiente che nel corso della giornata hanno sparso manualmente il sale agli ingressi delle scuole e lungo i marciapiedi davanti ai principali uffici pubblici, musei e Piazza dei Signori salatura che è prevista anche domani davanti alle scuole a partire dalle 6 neve che fortunatamente non ha comportato particolari criticità stradali e che già nel primo pomeriggio ha lasciato il posto alla pioggia a Valdagno la presalazione serale ha consentito di gestire al meglio la nevicata matutina in serata invece è partito un trattamento completo anti ghiaccio con sale e ghiaino la Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per gelate in tutto il Veneto dalle 16 fino alle 9 del mattino vi ringraziamo per averci seguito questa era una selezione di alcune tra le principali notizie raccolte per voi dalla redazione arrivederci Shiva, atipica osteria nel verde delle colline di Faravicentino serati a tema con cibi particolari e carni esotiche ogni seconda domenica del mese dalle 10 e 30 ben trovati al meteo dopo un weekend con tempo stabile la settimana inizia decisamente con cielo più grigio e non si escludono anche dei fenomeni la situazione è di lunedì 16 dicembre nel dettaglio sul Veneto cielo molto nuvoloso con possibilità di locali e deboli piogge soprattutto alla sera sarà possibile inoltre qualche parziale riduzione della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde della giornata temperature minime tra 1 e 7 gradi massime comprese invece tra 9 e 10 gradi circa inizio di settimana piuttosto nuvoloso anche a Vicenza in città ma anche in provincia il cielo risulterà grigio e coperto e dentro sera notte non si esclude anche qualche debole piovasco a carattere sparso dal meteo per ora è tutto grazie per l'attenzione e arrivederci sabato sera musica su prenotazione costate da un chilo e tagliate seguici su facebook o osteriasciva.it grazie a tutti 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 grazie a tutti